Musica Oggi per il centenario della Turismo Proclusone un salto nel passato con uno degli appuntamenti più storici, più tradizionali della cittadina. Siamo tornati ai primi del 1900, Clusone sta rivivendo un po' il mercato di una volta, abbiamo tantissima gente che è curiosa tra le bancarelle e va a ammirare gli animali che sono posizionati in Piazza della Rocca. Diciamo che anche i gruppi folcloristici allietano la giornata, il tempo è bellissimo quindi c'è una bellissima cornice. Ringrazio tantissimo le donne che si sono prestate, oltre a lavorare ad adobbare la piazza si sono anche vestite con gli abiti dei primi del 1900. Come è nata questa idea di rievocare il mercato di una volta? Ricordavo tanti anni fa quando il circolo culturale Baradello aveva fatto per la settimana del millennio, aveva rievocato appunto i mercati storici e i mestieri antichi. Quest'idea ci è piaciuta, l'abbiamo portata avanti, abbiamo trovato un gruppo di donne che sono appassionate e hanno voluto partecipare. I gruppi folcloristici erano entusiasti di trovarsi tutti insieme in questa cornice e così pian piano abbiamo portato avanti l'iniziativa e vedo che funziona. Cosa avete voluto preparare per questa giornata? Come avete allestito la piazza? Allora naturalmente sullo stile vecchio diciamo del 1900, buona la partecipazione sicuramente, soprattutto di coloro che hanno allestito perché veramente ci ha messo parecchio impegno per cercare naturalmente oggettistica piuttosto vecchia, ma non solo ma anche partendo dalle sementi, ci sono delle primizie che erano del Novecento, dei legumi e roba varia di cui si cibava la gente allora, dal grano turco, al frumento, tantissime cose. Ci sono parecchi gruppi che vengono anche da fuori da Rovetta e cantano, poi le taistine di Gorno, poi ci sono i lampiusa di Parre, per cui tutta questa collaborazione fa sì che i gruppi diventano sempre più affiatati e naturalmente anche per altre manifestazioni, altri incontri così, vivacizzano tutte le nostre cittadine che comunque anche se sono molto belle, hanno bisogno comunque di essere vivacizzate durante il periodo dell'anno. Noi invitiamo soprattutto anche i residenti a essere presenti a queste manifestazioni, di far vedere il loro calore perché anche la gente che si impegna ha bisogno di un costante stimolo perché è da lì che poi ti viene voglia di lavorare e voglia di fare, per cui invitiamo proprio caldamente anche tutta la gente della nostra zona a voler affiancarci in molte manifestazioni. Grazie a tutti.